Musica Allora entriamo a svegliare Julian, non penso sia già sveglio Julian ma cosa stai facendo là? No Oh ciao mamma buongiorno, si sono già sveglio da un'oretta Sto disegnando qualcosa, ho già preparato le cose Ok, non penso che ti sei mai svegliato così forte Cosa stai facendo là? Deve essere un disegno per Brigitte che non sia così arrabbiata con me Perché ultimamente non sono stato tanto bravo Ok, fa vedere Oh, un cuoricione nel tuo nome Ma che bravo Allora ti preparo il pane Dovrei colorare anche il cuore oppure no? Oh, che domanda difficile, cosa piacerà a Brigitte? Oh Julian, Julian, Julian Oh, se non sarà contenta di questo disegno allora non so davvero che fare Julian ti ha preparato il pane Ma forse credo dirglielo, oh no mi spiace davvero per lui Mamma arrivo, ho preparato tutto? Allora non dimenticare il tuo panino e possiamo andare Allora via Brigitte sarà così contenta quando la vedrà Julian, oggi non penso che vedrai Brigitte perché è malata No, oggi vai in un altro asilo Cosa? Come oggi vado in un altro asilo? Ma io vado al mio solito asilo, no? Oh, aspetta, non capisco L'ultima volta non ti sei comportato tanto bene Brigitte ha detto che sarebbe stato meglio di andare in un altro gruppo con gli altri bambini Mamma no, sono tutti miei amici e non voglio andare in un altro asilo No, mamma Ma Julian, non preoccuparti Troverai dei bambini così carini Magari ancora più carini di quelli che conosci adesso Dai Julian, non ti preoccupare Si chiama asilo farfalla Cosa? Questo dovrebbe essere, bello no? Guarda quante farfalle Oh, sì, wow, farfalle Oh, che incubo Dai, guarda un po' Julian, le accio a un uomo maestra Sarebbe signora Fogel, il mio nome è Alput Abbiamo telefonato, no? Sì, esattamente, questo è il mio figlio Ciao Julian, benvenito al nostro asilo Poi capelli? Sì, lo so Oh, ma Alput che nome è? E perché hai due orologi? Ah, sì, ecco Uno è per l'asilo e uno è per l'orario giusto Qui il tempo è un po' diverso che fuori Sembra abbastanza strana questa cosa Due orologi e due orari Allora, buon divertimento all'asilo, Julian Ti vengo a prendere dopo, eh? Sì, mamma, non fare così È tutto per colpa tua, colpa tua Bene, Julian, allora entra, ti faccio vedere tutto Ecco, qui ci sono gli altri Vogliamo fare colazione tutti insieme Ciao, sono Cassandra Ciao, io sono Tiffany Io non sono contenta Io sono Julian Fogel, no Cioè, nessun altro giovanotto Sono l'unico Tutte ragazze, no Avrei una domanda Sono solo tre bambini qui con me No, no, non è un vero asilo questo Julian, sì, hai ragione Siamo solamente in tre Tre bambini L'asilo c'è da poco E quindi siamo contenti di avere un nuovo membro Allora, togliamo le cose per fare colazione Buon appetito Oh, no, no, no E questa roba è essere la colazione Ma è vietato? Oh, no, che schifosa Cosa? Perché io la mangio tutti i giorni Eh, sì, anch'io Mangio i fagioli tutta la mattina Sono così buoni Ah, buoni i fagioli di colazione Certo Julian, vuoi qualcosa da bere? Sì, dai, riempi Ah, questa è la nostra bevanda energizzante Oh, sì Oh, ma cos'è questo? Oh, ma vuoi prendermi in giro? Oh, no Quando si muove l'asilo funziona sempre così qui Non si può mica bere questo Julian, dai, ma come non ti piace? Di solito piace a tutti i bambini Ah, sì, io l'adoro Quando abbiamo finito di mangiare possiamo andare a giocare? Ma certo La conoscete per questo l'asilo, no? Oh, però l'è stato bruttissimo Spero che abbia dei bei giochi Oh, no, non sembra Oh, ma questo era quanto? Niente altro? Niente scivolo? Niente palestra? Sì, sì, sì Fuori abbiamo davvero dei bei giochi Ah, sono proprio curioso allora Oh, arrivo Andate pure Oh, devo prima guardare cosa so io qui Lui si chiama Julian Ma che cos'ha nel suo zaino? Vediamo Oh, una lettera Penso sia una lettera d'amore Magari l'ha fatto per me adesso Durante la colazione Mentre non guardavo Ma che carino Wow Questa non me l'aspettavo Wow, fantastico Sì, devo dire che il parco qui è molto più bello Di quello nel nostro asilo Bello, bello, bello Vieni Julian, saliamo Ok Mi prendi così? Vuoi essere mio amico? Ok Oh, sì Tipico Tiffany Arriva qualcuno di nuovo Lei subito deve prendersele Io? Grazie Julian, volevo chiedersi una cosa Hai una fidanzata? Quella domanda Sono stato sposato Ma Nel momento Direi no Ah, sì Mi avrebbe stupito Ho visto la lettera Nel tuo zaino Con il cuore Era per me, vero? Grazie Era molto carino La parte tua Ah, ma, 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 ma Aspetta Tu hai guardato nel mio zaino? Perché? E che lettera? Oh Hai visto la lettera per Brigitte? No, non era per te Era per Oh Perché hai guardato nel mio zaino? Non puoi guardarci? Sai cosa dico? Questa era quanto Io non sarò tuo amico Niente, no Queste cose non si fanno Ah, non puoi dirmi prima di scendere Aia Così mi sono fatta male Pensavo che tu mi amassi Oh, sì I bambini Pensavo fossero faticose Quelle del vostro asilo Ma voi Oh, oh, oh Ora vado un po' Con questo cavallino Magari a casa Julian? Ciao Julian Sono io Volevo venirti a prendere Oh, ma finalmente Sei arrivata Finalmente È stata una giornata così faticosa Giornata faticosa? La vita di un bambino della serie È faticosa Sì E cosa ti è piaciuto Julian? Oh, ma ma Insomma Sì Insomma Una ragazza si è namorata di me Ma per il resto Non lo so Ma questa non è fatta per me Oh sì Inoltre la maestra Voleva Darmi un succo Così Disgustoso Ok Julian ha delle buone notizie Ho parlato con Brigitte Penso che puoi tornare al tuo asilo Grazie Almut Per questa giornata Ma penso che L'asilo Sia quello Di Julian In quello che mi tornerà Oh, ma se ci fosse Questo parco Da noi sarebbe più che perfetto